Dopo due anni di stop, l'avvio della bonifica dell'area ex Vinal di Santa Giuletta potrebbe finalmente essere alle porte. Entro una settimana, infatti, il Comune chiuderà la seconda procedura avviata un paio di mesi fa per affidare i lavori di messa in sicurezza di quella che è stata definita a più riprese da molti come una bomba ecologica da disinnescare al più presto, vista la presenza di ingenti quantità di amianto, circa 15.000 m2 di coperture e di altre sostanze nocive ancora presenti nell'ex distilleria. L'area industriale, sotto sequestro dal 2006 dopo il fallimento della proprietà, era stato oggetto di un bando per la bonifica, bloccato poi dal Comune lo scorso anno a fronte del ricorso all'autorità nazionale anticorruzione di una delle ditte interessate a partecipare alla gara. Il bando è stato quindi ridefinito a fronte dell'aggiornamento del progetto nel marzo scorso da un professionista incaricato e la Giunta Comunale ha approvato il primo lotto dell'intervento, ovvero la rimozione delle coperture in amianto e la loro parziale sostituzione. Rispetto al progetto precedente sono però aumentati i costi che passano così da 886.000 euro a 1,2 milioni, di cui 998.000 di lavori, che saranno sempre coperti dal finanziamento di 2,2 milioni di euro che Regione Lombardia aveva assegnato al Comune nel 2017 per la messa in sicurezza complessiva dell'area. Il provvedimento è stato trasmesso anche all'amministratore unico della proprietà, al curatore fallimentare e al custode giudiziario dei beni ex Vinal.